L'OSAP sta in tutte le piazze dove si manifesta per la polizia penitenziaria e per i colleghi della polizia penitenziaria. Noi siamo qui oggi garbatamente con striscioni, bandiere, non per criticare la persona del capo del personale, ma per chiedere al capo del personale attenzione per la polizia penitenziaria. Il corpo ormai oggi è in decadimento perché c'è stato un taglio di personale oltre il 30%. All'apertura del carcere di Lecce erano 900 colleghi nei vari numeri, oggi ne conta appena 550. Quindi i numeri sono quelli che sono, la matematica non è un'opinione. Noi oggi chiediamo al capo del personale dignità lavorativa, rispetto lavorativo e di essere paragonati a tutte le altre forze di polizia, iniziando dalla fornitura di uniformi, iniziando dai gradi, iniziando dalle nuove teste di riconoscimento e iniziando che i posti di servizio che oggi i colleghi sono all'interno a lavorare siano dignitosi, con scrivanie dignitose, con sede dignitose, con climatizzazione dignitosa. Noi siamo un corpo di polizia dello Stato e chiediamo dignità e rispetto.